I soldi che sono stati investiti per gli immigrati potevano essere investiti anche per i cittadini italiani, ad esempio per quelli dell'Aquila, che sono ancora nelle baraccopoli, da quello che so. Il muro c'è ma non si vede. A Fonte Vivo, qualche chilometro da Parma, i profughi non possono entrare. Lo ha deciso il sindaco più giovane d'Italia, leghista, che di emergenza umanitaria richieste d'accoglienza delle prefetture non vuole nemmeno sentir parlare. Io credo che un prefetto non possa obbligare sindaci ad accogliere, quando bene anche il prefetto sa che le condizioni non sono poi così rosee dei nostri comuni. Non possiamo asfaltare le strade perché il piatto di stabilità si vincola, però poi dobbiamo accogliere dei profughi e dei rifugiati. Noi abbiamo detto no perché dovremmo dare loro soldi quando non riusciamo a darli a gente che gli guadagni, che paga le tasse qui. Vengono qua per lavorare e non hanno neanche voglia di lavorare. Secondo il documento votato in Consiglio Comunale, nessuna struttura pubblica sarà disponibile all'accoglienza. E anche i privati che vogliano aprire le proprie case dovranno presentare una certificazione medica sullo stato di salute degli accolti, in modo da non creare problemi sanitari alla popolazione residente. Non ci fidiamo e vogliamo avere una sicurezza, dal momento che io sindaco sono l'autorità sanitaria del territorio, quindi vorrei essere sicuro che questi migranti siano in condizioni igienico-sanitarie buone. Se non combinassero guai, è quando combinano i guai che poi indispettiscono le persone.